Ho creato un corso alla portata di tutti, ricco di informazioni e insegnamenti pratici. Ti parlerò anche del valore che queste misteriose e potenti figure potranno avere nella tua storia personale. E infatti fin dal primo momento in cui si comincia a usare queste figure, seguendo le tecniche particolari che ti spiegherò, noterai l'inizio di una trasformazione positiva della tua vita. Vedi, quasi tutti questi personaggi indossano una corassa. Molti di loro possiedono scudi, spade, lance, bastoni e altre armi. Ognuno di questi personaggi è un tuo alter ego. Secondo il tipo di lettura che farai, ognuno di questi personaggi potrà simbolizzare il tuo stato d'animo o quello di una persona con la quale sei in un rapporto sentimentale oppure professionale o di altro tipo. Il primo esercizio pratico con i tarocchi sulla bosca considera proprio la ricerca dei tuoi limiti e dei tuoi talenti. Quello che sto per insegnarti ti sarà utile per tutta la vita, non solo in questo corso dedicato ai tarocchi sulla bosca. Per facilitare il tuo apprendimento ho preparato un dossier dove ho riassunto i significati dei 22 trionfi. Potrai accedere a tutte le lezioni per sempre, quando vorrai. Ora hai nelle tue mani un vero gioiello, un gioiello prezioso e hai dentro di te dei talenti speciali, dei talenti preziosi. Non sprecarli. Prosegui su questa strada e riceverai una quantità di doni che adesso, in questo momento, non riesci neppure a immaginare.